Dottore Lelario, entriamo nei dettagli dell'operazione Golgotha. L'indagine è stata portata avanti dalla squadra mobile. Sì, si è trattato di un'attività che ci ha coinvolto per circa due anni di indagine, coordinati dalla distrettuale di Catanzaro, con l'ausilio anche del servizio centrale operativo, e che ha riguardato due zone particolari del Crotonese, Isola Caporizzuto e San Leonardo di Cutro. rispettivamente colpendo la famiglia di Andrangheta, Rena Nicoscia, e la famiglia di Mannolo, che sono storicamente dediti al traffico e legge di sostanze stupefacenti. Mentre invece, per quanto riguarda la cosca Rena Nicoscia, è stata anche imputata l'associazione mafiosa. C'erano circa 108 i reati che sono stati addebitati a queste due cosche dell'Andrangheta Crotonese. Sì, complessivamente si tratta appunto dei vari capi di imputazione, riferibili non soltanto a quelli che sono i reati principali, ma a quelli che vengono definiti in gergo tecnico i reati fine. Cioè, vale a dire tutte le cessioni, tutte le forniture di droga che sono state documentate nel corso di questi due anni di indagine, a cui si sono aggiunti anche una serie di sequestri ritardati di armi, che sono state sequestrate in maniera copiosa, soprattutto per quanto riguarda l'attività svolta dai Mannolo. Come diceva il procuratore Gratteri, Nrangheta di Serie A. Sì, si tratta di realtà criminali collaudate, che avevano sicuramente una capacità di imporsi sul territorio, appunto frutto anche di una situazione storica che allignava all'interno del territorio di Isola Caporizzuto. Stessa cosa può dirsi anche per quanto riguarda la famiglia di Mannolo, che era storicamente appunto una famiglia dedita proprio al traffico di sostanza stupefacente e che aveva anche dei rapporti stretti con gli solitani, come emerso nel corso dell'indagine. Il business della droga? Sì, che è un business purtroppo sempre appunto fiorente, che non trova mai momenti di crisi, anche quando ci sono altre crisi che attraversano il nostro paese, e che appunto vedeva in Mannolo, unitamente alle famiglie solitane, avere fondamentalmente un'egemonia in Mannolo per quanto riguarda soprattutto l'attività di spaccio di traffico, di cocaina e di marijuana sull'intera provincia crotonese. Un collegamento anche con il nord Italia per quanto riguarda questa operazione? Sono stati fatti degli arresti anche a Bergamo? Sì, noi abbiamo documentato nel corso dell'indagine degli interessi che ci sono stati concreti da parte della famiglia Arena, in alcune appunto realtà, mi riferisco in particolar modo alla provincia di Bergamo, da parte appunto della compagine solitana. In particolare si trattava di infiltrazione all'interno di alcune aziende, una è stata documentata in maniera molto dettagliata, che ha visto appunto esponenti della crotonese acquisire in primo momento delle quote societarie all'interno di queste aziende, che poi diventavano di fatto fagocitate e da qui appunto assumevano una sorta di gestione dell'azienda che comportava anche un monopolio, comunque un'imposizione di certe determinate regole all'interno del territorio e del settore in cui operava.